Ecco, appunto, ciao ragazzi, questa è la mia faccia Ora metto la telecamera in posto Aspettate Questa è la mia faccia Ehm... Come appunto spiegavo Perché mi è sfermato, non so, per quel motivo il telefono Devo eliminare file Comunque, perché c'ho veramente tanti video Comunque, come stavo dicendo Faccio dei video di un minuto Di un minuto, comunque faccio anche di due, di cinque Avete visto, no? E oggi è la prima volta che vi farò vedere anche la mia faccia Dopo fare un video Che non vi darà la faccia Però che vedremo, che vi mando dire al meteo Adesso c'è sole Stasera dicono che pioverà ma faremo vedere Staremo a vedere E comunque E' una roba bella fare video Perché da quando ho aperto il canale Tantissimi anni fa Cioè da un mese Siamo arrivati a 4 iscritti Grazie comunque perché anche 4 iscritti non è poco Per la gente che anche mi vede i miei video Scusate se sono in pigiama Non notate il mio fascino Comunque Ecco, ascoltatemi solo quello che dico Comunque Anche a me l'appoggio è veramente bello Comunque C'è per Comunque Per sostenerci Comunque Comunque Vi vorrei dire Grazie veramente Farò un video di musica Di generi Di meteo Di me così Così vi spiego anche un po' come si va avanti con questo canale Che voi pochissimi conoscete Allora, un bacione E grazie per avermi ascoltato Ciao ragazzi Ciao